ma è buo bella si ce lo so ed è pure bello alto si si la voglia beh, ci credo, c'è quel caso con cecchino a camperare tutti madonna ma siamo tutti sdraiati a camperare in casa, ma come cazzo è? vaffanculo muori, cano no, e non muore, va bene questa sdomba che è? bella che cazzo fai a stare 64-22? stai che ora se non prendiamo B la dobbiamo pure perdere ora sto provando a prendere io B vabbè ho preso io B eh va bene questo mi ammazza con un colpo sappi va già dove ci stanno rinciulando B no 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 ma ma flippa no? no no ma tu sei stai facendo stai drogando lal cioè ma boh vabbè ma sti nemici dormivano cioè a me vedevano solo perchè stavo senza silenziatore eh lo so ma non l'ho ancora svolcao no che Grazie.